allora dal momento che ho guardato un po su internet e mi sembra che nessun video tratti questo argomento ho deciso di fare una specie di guida per capire quando una frizione è da comprare piuttosto che no quando classico esempio siamo a novegro e dobbiamo andare a comprare da med che poteva chiamarsi anche gino pino questa frizione che ce l'ha lanciata nel campo in fondo e trattarla per arrivare a 10 euro capire se ne vale la pena o no oppure semplicemente ho comprato una frizione e voglio capire se ho preso un inculato o meno vedo tanti che fanno si girano tocca questa forse più bellina guardano le frizioni così e fanno buona questa frizione è nuova perché qui è pulita piuttosto che la girano e da montata poi è così a posto questa pressione è buona perché lucide quando sono le due cose che c'entrano assolutamente nulla con lo stato di usura di una frizione cioè vedere che qua sia pulito o che la parte esterna sia a posto non sia pulita no non c'entra nulla è l'unica cosa da non guardare allora qua andate da med e volete compargli la frizione la prima cosa che dovete guardare o che guardo io per comprare una frizione per capire quanto è stata usata è il dado che la chiude anche perché a frizione montata mi vedete dire cazzo meno non so se dentro la frizione è buona o meno è vero però qualche gabola c'è per capirlo questo per esempio è un dado che forse sarà stato svitato una volta due piuttosto che questo e si vede tanto anche dalla ranella queste per esempio sono due sono gli anelli queste due frizioni è palese come questa frizione è stata aperta e richiusa diverse volte non perché io l'ho aperta come un cane è perché chi ha fatto il bordino le seconde terze quarte volte è stato un cane piuttosto che questo questa forse probabilmente era quella accorpata con questo dado di cui si vede ancora l'ombra già prendere una frizione che ha chiusa così va da sé che non è stata aperta tante volte meno una frizione è stata aperta meglio è in linea di massimo perché quando le aprono nessuno le revisione veramente si può vedere dall'esterno anche il paraolio anche guardare il paraolio è indice se la frizione sia stata aperta diverse volte oppure no per esempio questa quando andate da med vedete che un birubiru ci ha voluto cambiare il paraolio e l'ha messo anche un paio di millimetri più dentro quindi questa è una frizione che è già stata presa aperta e richiusa come anche si vede qua che il birubiru che la richiusa al posto che battere sull'esterno del paraolio è battuto sull'interno quindi questa quando voi la vedete da med in fondo a novegro quella paraolio già e vince che bello di parole vince che questa frizione abbia già lavorato comunque sia sia stata già stata aperta per il resto questa è una campana di queste che c'erano su ovviamente controllate che non abbia cricche dove normalmente c'è la chiavetta perché nelle campane in ghisa spesso succede che si cliccano qua se vengono montata martellate questo è quello che dovete guardare della campana poi ovviamente che qua dove vanno a lavorare il ferro di della frizione o massette non sia dilaniata qua in fondo se c'hai ratti morti non è un problema perché una volta che ci sono montate le massette se qua su questo bordo quasi sono i ratti morti non è un problema perché tanto le massette vanno a lavorare qua su questo bordo e non su quello che c'era in fondo quindi controllate prevalentemente che sia buona qua poi per pulirla dentro si apre si tolgono le massette e si pulisce questa ovviamente si prende e si lancia nel rudo per il resto se l'avete già comprata e ce l'avete a casa una volta smontata prendo di come riferimento questa qui perché alla fine è quella che interessa i più perché è l'ultimo tipo dove si possono cambiare le mollette della frizione queste qua il problema di perni storti che adesso andremo a vedere in questa e quant'altro non si pone perché nessuno ha lo sbatti fondamentalmente di aprirle perché tanto non si possono cambiare le mollette della frizione e quindi la gente le prende le usa e forse sono quelle che vengono sempre che si trovano sempre in condizioni migliori anche perché vengono usate normalmente su mezzi stradali e il monferraglio medio come me il sabato notte non si mette ad aprire da ubriaco e non la distrugge questo è importante ricordiamocelo da frizione chiusa ovviamente si riesce a capire se ha dei correttori da 90 si vede comunque sia occhio va da sé che si capisce che abbastanza adattata come frizione perché sugli ultimi ci sono i correttori da 100 quindi correttori da 90 all'esterno che cosa si vede che di conseguenza sono più più piccini e quindi la frizione è già più datato questo non vuol dire che sia più più consumata però comunque sia un idice che la frizione ha proprio nata prima fondamentalmente quel collettore da 100 già è una frizione più recente poi se la cercate per il ciao prima serie e siete obbligati a usare questi qua se non volete modificare il telaio cercate quelle per l'amor di dio e queste qua comunque sia fanno parte questo qui è proprio una prima serie perché ancora i ferodi in sughero la seconda serie è fatta simile ne troverò una per farvela vedere però i ferodi non sono di questo materiale altra cosa da guardare come diceva in sé video che questa zona sia pulita o meno è praticamente ininfluente perché con una passata di diluente o una spazzola questa torna come nuova l'importante è che questa zona sia bella perché a questa zona è il bordo e vanno ad attaccare le massette di avviamento questa zona è dilaniata le massette di avviamento non fanno presa o comunque sia fan fatico oppure quando gira senti sempre il trascinamento ovviamente appena si prende una campana bisogna guardare che non abbia i segni classici della morsa qua perché i birubiru che smontano le campane in morsa quasi sempre lasciano il segno della morsa se vedi segni della morsa qua anche leggeri lascia testare perché qua a meno che non cada per terra la capa impossibile dei segni su questo bordo può arrugginiere non è un problema perché comunque sia con una spazzolata torna nuova qualsiasi segno acqua vuole dire che la campana è stata presa in morsa per terra quindi può essere che questa sia ovalizzata e quindi quelle lì scartate a priori di quelle nuove di quelle più recenti vabbè comunque sia controllate lo stato dei ferodi è difficile arrivare a zero è cioè è più facile vetrificarli che non arrivare a zero vedendo tutti i cavalli che ci portiamo dietro per il resto deve essere posto la filettatura se la filettatura è da rifare ipotesi compro da pinco pallino una frizione arriva la filettatura da rifare la cosa volete fare a smontare le massette il resto buttarlo perché non ne vale la pena come costi mettersi a sistemare altra cosa importante importantissima che l'ho capita alla mia prima monfa perché non avevo mai visto l'offissione del ciao e questa linguetta chiamiamola questa linguetta è il fermo del piattello fisso che adesso non entrerà ovviamente ok questo non deve avere gioco questo assolutamente non c'è questo che è il gioco che ha di origine è l'unico che deve avere questi qui si trovano ancora li fa la cif questo qua originale è marcato piaggio ma questi li fa la cif nel momento in cui queste linguette cominciano a consumarsi cambiatele immediatamente non costa un cazzo questo qua perché se questo alla linguetta consumata questa parte qua comincia a prendere sempre più gioco va poi a crearsi una sede qua sotto la filettatura cosa che a me era successo nella prima monfa perché non spero nulla in questa zona lui comincia a farsi strada avendo quel gioco li si fa strada si fa strada fino a che poi se girate senza se girate se si consumano del tutto praticamente questo gira assieme non fa proprio più la cambiata la cambiate in senso rimane nel primo rapporto perché questo non è più fisso questo deve essere assolutamente questa è fondamentalmente la cosa più importante non deve esserci gioco in questo e la linguetta qui deve essere perfetta stesso discorso per la bronzina adesso questa non la pulita questa bronzina che va a lavorare su questa parte cromata non deve avere gioco nel momento in cui questa qui a questo gioco questo gioco laterale questa non ne ha comunque sia minimo quando questo gioco è troppo questa il piattello mobile anche questo è da cambiare questo perché prende gioco perché alla fine è quello che sforza di più e comunque sia è una bronzina e tendi comunque sia consumare c'è una cosa normale questione a pochissimo e ovviamente anche questa parte dove scorre questa parte cromata non deve avere segni di grippature o altro anche perché se c'era questa inevitabilmente c'era anche il correttore immobile o viceversa per il resto sempre parlando se riesco con una mano ma non mi sembra facilissimo bisogna vedere anche che i perni delle massette siano dritti questi perni su cui scurrono allora questo colore qua questo oro coi riflessi questo indice comunque c'è che la frizione ha lavorato poco perché è il colore diciamo che aveva da originale questo colore ma si vede già meno ma è anche qua da nuovo hanno questo colore anche qua si vede un po più qui sul centro che ci sono ancora delle sfumature quello è il colore che ha proprio da nuova da completamente nuova piaggio io non parlo di repliche cinesi della cifre cose perché lì non ci metto becco perché non vogliono anche vedere comunque sia questi perni non devono avere gioco se questi perni hanno gioco che sono poi questi la frizione è da buttare o comunque sia sono da rifare i perni che è una cosa che personalmente non ho mai fatto anche perché sono penne ribattuti e come già detto ridetto il gioco non va e la candela se avessero gioco questi di conseguenza hanno gioco le massette che la cosa peggiore che ci sia in linea di massima le cose da guardare sono queste che bisogna essere un po sgamati nel capire da fuori se una frizione montata può essere bella anche dentro oppure no perché le sorprese ci sono sempre cioè io posso lucidare quella campana che abbiamo buttato io la posso lucidare 10 minuti e farla tornare di questo colore esternamente poi magari dentro una merda detto proprio parole papabili papabili come posso vendere una frizione chiusa con questo lucidato perfetto esternamente o anche semplicemente con ricambio della cifre 5 euro e dentro che ha fatto di ruggine invece che essere bello lucido sono bisogna stare all'occhio esempio questo fuori è perfetto quella la parte che questa non è la parte che si vede fuori è perfetto dentro va pulito o comunque sia va tornito va trattato va lucidato quindi quello che si vede fuori purtroppo delle frizioni è quello che non serve non serve sapere che sia bello oppure no perché comunque sia se fosse arruginito qua o se fosse arruginito appunto all'esterno di questo non ci interessa nulla perché sono cose che si puliscono tornano nuove lucidandole è puro fattore estetico questo nella campana che importa che siano quelli importanti in una in una frizione è che la bronzia non abbia gioco parole si cambiano per l'amore di dio che questa parte cromata non abbia grippatura o segni e che questa linguetta sia perfetta come anche la filetta tua tutto questo messo insieme fa una bella frizione però è inevitabile che bisogna stare all'occhio perché il mercato dei moped ultimamente ha provato molto piede le le frizioni i variatori comunque sia in mozio variatore le trasmissioni aveva torrenti hanno acquistato tanto valore per via della monferraglia comunque sia perché alla fine sono quelle più ricercate e molta gente ci marcia su soprattutto i mercatini io ho capito che direte mi non posso mica portare una chiave da 32 e smontargli la 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 frizione ad ammed davanti per vedere se è messa bene esatto però si riesce a capire anche da fuori in base a tante piccole cose se una frizione 1 è stata già aperta o due in buono stato poi certo il rischio c'è sempre però in linea di massima i miei consigli sono questi